Una collezione di banconote e monete italiane con pezzi a partire dal periodo preunitario. La raccolta, grazie all'impegno e alla passione per la numismatica del signor Massimo Amato, che da 50 anni ricerca e colleziona. A testimonianza del rilievo della raccolta, il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, di cui si avvalsa una delle recenti mostre di questi veri e propri gioielli negli spazi del Castello Pandone di Venafro. Sul valore venale dell'esposizione il signor Amato ha glissato. Da sottolineare però che alcuni singoli pezzi sono stati valutati decine di migliaia di euro. Partiamo con banconote dal 1848. Non sono tutte, però l'80% delle banconote e delle monete della lira sono qui esposte in effetti. Le cose che raccolgo saranno circa una cinquantina d'anni. Adesso lavoro e ho avuto la disponibilità, però nella gioventù ho cercato di comprare, di recuperare con i campi, eccetera, eccetera. Un altro pezzo importante, addirittura storico, riguarda le Amlire. Che cos'erano e come funzionavano? Allora, le Amlire sono delle banconote che sono state fatte nel periodo della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, e le persone che andavano in guerra, diciamo così, venivano pagate con queste banconote, in effetti che loro le potevano spendere sia in Italia che in America, perché parecchie persone che stavano in Italia spendevano in Italia perché pagavano i militari con gli Amlire e loro potevano andare in qualsiasi negozio perché avevano in effetti il valore scritto sia in americano che in italiano. Ed ora, eccola qui vicino a noi, una delle banconote dal punto di vista numismatico più pregiate, più ricercate. È la 25 lire dell'Aquila Latina di Vittorio Emanuele III. Perché è così importante? Allora, perché quando, siccome Vittorio Emanuele III era un grandissimo numismatico, cioè quando è che faceva stampare delle banconote, studiava a fondo prima di metterle nel poligrafico e allora risale che aveva dei colori di un certo particolare e la filigrana era tutta particolare. Pertanto erano delle banconote che venivano quotate ad altissimo livello, in effetti. Tra i vari pezzi, quelli più pregiati o almeno più suggestivi, c'è la 10.000 lire, definiamola, di Totò, quella che abbiamo visto praticamente tutti nel film La Banda degli Onesti. Allora, questa banconota è chiamata La Regina del Mare. Pertanto è una banconota che è stata fatta nel 1948 e ha circolato in Italia per circa una quindicina d'anni. Era una moneta abbastanza grossa, pertanto circolava pochissimo perché per metterla nei portafogli si doveva piegare a otto parti, in effetti. La piegavano, ripiegavano, fino a quando andava nel portafoglio. Era una banconota che non veniva utilizzata, cioè veniva fatta soltanto per lo stipendio, perché il pagamento dello stipendio di allora ti davano quattro banconote di queste e stavi a posto.